Buongiorno Tutto nasce per portare un po' tutto quel pubblico che è online, quindi tutti i follower che hanno questi ragazzi che sono più di 200 milioni cercare di portarli a vivere il calcio, a vivere lo sport all'aria aperta. Per me è un orgoglio stare qui rappresentando alle donne, è un equipe mixto con i ragazzi che sono i miei amici e quindi il messaggio che voglio trasmettere è che indipendentemente se sei chico o chica, puoi giocare al fútbol, puoi praticare deporte con i ragazzi o chicas e al final fare un buon equipe, quindi io rappresentando alle donne è molto orgogliosa che vengo da España e è un piacere essere qui in Italia.